Ciao ragazzi, ben ritornati sul mio canale, sono come sempre Alex Maverick, allora siccome il video di ieri sulla Nations League vi è piaciuto tantissimo, abbiamo superato addirittura le mille visualizzazioni, oggi vi riporto il video sulla Nations League però della partita dell'Italia contro la Bosnia-Herzegovina. Non ci siamo ragazzi, 1-1 però riparziare, manca praticamente un minuto e mezzo alla fine della partita, l'Italia che nel primo tempo si ha dalla sua il possesso palla ma non ha punto abbastanza per far male la difesa bosniaca, solamente la conclusione di Chiesa sull'esterno della rete e forse anche la conclusione di Insigne su calcio di punizione. Però nel secondo tempo la Bosnia parte meglio, l'Italia è molto passiva, soprattutto i terzini, quindi i Florenzi e i Biraghi negativi direi, infatti la Bosnia dalle fasce ha fatto veramente quello che voleva. Arriva il vantaggio della Bosnia praticamente sul calcio d'angolo, con Dzeko che praticamente si trova la palla lì sul mancino e si gode il vantaggio. L'Italia però dopo lo 0-1 si sveglia, trova l'1-1 con Sensi, azione sulla sinistra e praticamente Sensi di piatto, appunto tira a destra, deviazione determinante del difensore della Bosnia che praticamente devia il pallone e la butta in rete. Siamo praticamente ragazzi al 93 e 50 secondi, credo sarà l'ultima azione della partita, è cross in mezzo, Acerbi controlla il pallone, c'è Sensi, niente da fare ragazzi. Finisce così ragazzi dopo l'1-1 però tanto possesso palla ma nessuna occasione. Ora c'è l'invio del portiere della Bosnia, non ci siamo ragazzi, vediamo, è finita adesso. 1-1 tra Italia e Bosnia e Herzegovina. Negativo ragazzi, negativo, negativo.